Poi dici uno perde da ranga perchè è scarso, no noi perdiamo perchè siamo sfigati Dai proviamo a fare il pro con sto coso A destra a destra ranga L'ho preso, si si E spara e piglielo una volta Porco dina come tocca abbiare dei round E poi uno dice non deve bestemmia no Che poi tipo se depubblico il video mi sa che tocca censurare bestemmia 1 mid Eh med si smette davanti Scusi, si è venuto in fronte di me, scusate Hai WP mid Posso ottenere un drop IK? Ma te, drop 1k zio Perchè si è comprato la CZ? 2B, in 4 In 4 2 guys B, 2 guys B I'm smoke mid Oh, one turn Bello, non sono zaccato una No, una c'è all'inizio quando siamo andati long No, non ci credo Non si sta a vedere Non si sta a vedere là eh Sta andando short Oh, or Short, short, check short Clear, clear, clear È short eh Oh, pit 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 Plant, plant Plant È lunga eh Non è sta lunga Stai, 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 stai Stai, stai, stai Stai, stai, stai Oh, good job Porchidina Dai, è come becchiamo sta schifo Good Go B Rush B Bella ma Yeah, he did the right thing Stop Nice shot Nice shot My retard Porchidina Ma te si fatto che Russi per cazzo Tanspawn Fleshing I'm throwing a flashback Bomb middle Why did you hit her? Well, there was no one in midi 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 Just a guy over me Just a guy over me And I had 27 hp In the middle of the head I shot in the head My friend You hit your head Double doors There's one He has one Last was double doors Last night He has bombed He won't shoot Take a kp perchè sta qui tanto quando c'è la bomba quello da lì che lo sposto a te come on time please non c'è nessuno lì te l'ho pure detto vai il resto d'edas florevo там d'uboe скаж badge l'amasa suudi l'accessibil seco si via google non è tanto come ultimo e s è Васili o il risponio inglese ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Vettelicato Vettelicato iizations vettelicato vettelicato quesassi c non è stato che ho avuto il lo scopo a tutti i potenti chattel non ho chiudere la traccia da come qui non è che non lo scopo non mi piaccia c'è c'è non ho box box il pomo tappi naspa e bosni встречи shorty però ci sono ciò che è ma rosa l'onore questo ciò eeeh moho scout voce nico senai help team it's a free a dai pizdo it's a dretar what good job plant one is long one is on the other side Noi, non ho vedi, stoicino P***e, adesso ciò ebbò, io ebbò Chi lo sa? Eh? L'acqua? No Eh? Questa C'è l'acqua? Ebbè, buon job Sottotitio. C'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua. C'è l'acqua, c'è l'acqua. Si Oh, nice E' un po' di tempo che finisco E sta lì E sta ancora lì Ma ci vuole un po' di tempo che finisco E va beh E se va via E sta lì E sta ancora lì Ma ci vuole un po' di tempo che finisco E se si muore puoi usare il bot Ma c'è info? Cosa stracazio fa il bot? Cosa stracazio? Cosa stracazio? Cosa stracazio? Stai in posizione, non li spugni Non hanno tempo Probabilmente li spugneranno Qualcun momento Un altro è morto Sì, c'è uno qui Qualcun di un'amica Ok, che scatto? Ecco cosa c'è? Oggi, c'è un agitato Un agitato Si, ecco uno in Tannolo Ok, over Un'altro è laggiata E' quasi scatto Un'altro è laggiamo 6 chi ha scout one of them cascout e dai e mal faccio al risalto poi si dobbiamo perdere quando stili interdati attendo sopra sinistra la scatola ha visto la testa e si visto la destra ma te hanno questo stanno sta lo stesso giusta giù non spiazzarli non spezzarli a parte non ultimo lag a parte molti tutti che cazzo sto di do the world e che qui l'ho detto long long come pare che ci sta qualcuno parla di senso appunto cioè si sa un bezzo che mi era ammazzato se ci è un pezzo che mi era ammazzato se ci è un pezzo che mi era ammazzato and behind them allong vai 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 a gara vai 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 è simile il problema è di 3 nono i sono 25 giorni dui Per il problema che sono 0.4 Iscriviti la musica! Come, faccio! Bamba dà vipusta! E***** Giù già avuto! Massa! testa testa ne 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 ah cazzo eh vabbè mi tocca perdere i game così tu hai visto il bhop? gg edz ah i go donk ah i go bs olius go 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 ok, i'll just go smoke mid short full step super tunnel, i think it's b probably yeah it's b probably nope, it was the bot, it was the bot come in come in come in come in eh resisti 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 oh dietro it's b it's b ah no no, a, a noo, i'm not gonna say eh, too long mid, full steps mid long 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 last really, really un corso gioco ci risulta inizio buona sabita poco due ma che è l'ultimo buon sbattere parmi con il mio corso scopo rimbali che dite del sol che coglioni quando mi sta sul cazzo di usando Team inutili Borco 2 Guarda Guarda che schifo Il team nostro Forse mai Che uno dei nostri Rimane più ultimo Salva il culo Tutti Sembra loro Borco 2 Che schifo E vabbè Tunnel Si sta davanti a te Attendo Eh vabbè Tu vuoi pure con lo spravi Quello non riusciva a ammazzare il bot Quello non riusciva a ammazzare il bot Si camminava dritto Borco 2 E' riuscito a morire con quell'altro Normal Poro bot freddo E' stato scomprato Minus 79 Minus 77 Forse mai che uno del team nostro Fa la provata No eh No 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 Forse mai che gesta uno Nel team nostro Che riesce a fare La provata finale Facili Ingegge Ci mettono Ci mettono Ci mettono Ci sono riuscire A coprire da posto game Una passata la voglia anche respirare Un po' giusto Ciao Ciao Bene a tutti ragazzi Per il video mi si è piaciuto Purtroppo è stato il game di merda L'abbiamo persa clamorosamente Però purtroppo quando ti capitano i team In questo modo che non hanno la possibilità e la capacità Di usare il cervello E questo quello che succede Tra parenti si erano tutti a cap Io sono un fottuto e 4 stello Vero col nome Vabbè ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Ci vediamo in un prossimo Lasciate like Iscrivetevi se non l'avete fatto E ditemi nei commenti Se volete altri video simili a questo Bella a tutti Ciao